Ciao ragazzi e ciao ragazzi bentornati nel mio canale oggi un nuovo video decorazione oggi decorerò la seconda settimana di maggio che è la settimana 19 allora parto subito con il video vi lascio alla musichetta fatemi sapere, mi raccomando, sotto nei commentini se vi è piaciuta la decorazione e niente, noi ci vediamo al prossimo video decorazione ciao! ciao 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 ciao